Questo video è stato prodotto da Riccardo Zigarini, El Vega, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi e Costantino Indelicato. Non ho bocca e devo urlare. Di Arlan Ellison. Lettura di Libri in Pillole. Illustrazione di Eros Veschi. Musica di Paolo Cotrone. Inerte, il corpo di Gorrister pendeva dalla tavolozza rosea, senza sostegni, appeso lassù in alto sopra di noi nella sala del computer. Non rabbrividiva nella brezza fredda ed oleosa che spirava eternamente nella caverna principale. Il corpo pendeva a testa in giù, attaccato alla parte inferiore della tavolozza per la pianta del piede destro. Era stato dissanguato attraverso un'incisione meticolosa, praticata da un orecchio all'altro sotto il mento appuntito. Non c'era sangue sulla superficie lucida del pavimento metallico. Quando Gorrister si unì al nostro gruppo e levò lo sguardo verso se stesso, era ormai troppo tardi perché ci rendessimo conto che ancora una volta A.M. ci aveva raggirati. Si era divertito alle nostre spalle. Era stata una diversione da parte della macchina. Tre di noi avevano vomitato, voltandosi le spalle l'un l'altro in un riflesso istintivo, antico quanto la nausea che l'aveva prodotto. Gorrister sbiancò. Sembrava quasi che avesse visto un'icona del voodoo e avesse paura per il futuro. Oddio, mormorò e si allontanò. Noi tre lo seguimmo dopo un po' e lo trovammo seduto con la schiena appoggiata ad uno dei banchi più piccoli, con la testa tra le mani. Ellen gli si inginocchiò accanto e gli accarezzò i capelli. Lui non si mosse. Ma la voce uscì chiara tra le dita. Perché non ci liquida e non la fa finita? Cristo non so per quanto ancora potrò tirare avanti. Per noi era il centesimo nono anno nel computer. Gorrister parlava a nome di tutti noi. Nimdok era il nome che la macchina gli aveva imposto perché i suoni strani la divertivano. Aveva l'allucinazione che nelle caverne ghiacciate vi fossero viveri in scatola. Gorrister ed io avevamo parecchi incubi. È un altro scherzo, dissi loro. Come quel maledetto elefante congelato. Benny per poco non ci ha perso la ragione per quello. Lo trasporteremo per tutta quella strada e sarà pietrificato o qualcosa del genere. Lasciamo perdere, vi dico. Restiamo qui. Dovrà tirar fuori qualcosa in fretta o moriremo. Benny scrollò le spalle. Erano passati tre giorni da quando avevamo mangiato per l'ultima volta. Vermi, duri, coriacei. Nimdok non era più tanto sicuro. Sapeva che una possibilità c'era, ma stava diventando magro. Là non poteva essere peggio di qui. Più freddo, ma non aveva molta importanza. Caldo, freddo, pioggia, lava o locuste non aveva mai importanza. La macchina si masturbava e noi dovevamo accettare o morire. Fu Ellen a farci decidere. Ho bisogno di mangiare qualcosa, Ted. Forse ci sarà qualche pera o qualche pesca. Ted, tentiamo. Mi arresi subito. Che diavolo. Tanto non importava. Ellen me ne fu grata, comunque. Mi prese due volte fuori turno. Anche questo non aveva più importanza. La macchina ridacchiava ogni volta che lo facevamo. Rideva forte lassù, là dietro, tutto intorno a noi. E lei non aveva mai l'orgasmo. Quindi, perché prendersene la briga? Partimmo di giovedì. La macchina ci teneva sempre informati della data. Il trascorrere del tempo era importante. Non per noi, sicuro come l'inferno, ma per la macchina. Giovedì, grazie. Nimdok e Gorrister portarono Ellen per un po', facendo un seggiolino con le mani. Benny camminava davanti a loro e io dietro, in modo che se fosse capitato qualcosa sarebbe capitato a uno di noi e almeno Ellen sarebbe stata salva. Salva, per modo di dire, non aveva importanza. C'era solo un centinaio di miglia o giù di lì per arrivare alle caverne del ghiaccio e il secondo giorno, mentre giacevamo sotto il sole accecante che aveva materializzato, la macchina ci mandò un po' di manna. Aveva il sapore d'orina di cinghiale bollita. La mangiammo. Il terzo giorno attraversammo una valle d'obsolescenza, piena di carcasse arrugginite di antichi banchi di computer. A.M. era stato spietato nei confronti della propria vita come nei confronti delle nostre. Era una caratteristica della sua personalità. Tendeva alla perfezione. Quando si trattava di eliminare gli elementi improduttivi nella sua mole che riempiva il mondo o di perfezionare metodi per torturarci, A.M. era meticoloso come coloro che l'avevano inventato e che ormai erano diventati polvere da molto tempo. Quasi non avevano sperato. Dall'alto filtrava la luce e capimmo che dovevamo essere molto vicini alla superficie. Ma non cercammo di arrampicarci per andare a vedere. Non c'era virtualmente nulla là fuori. Da più di cento anni non c'era niente. Solo l'epidermide devastata di quella che era stata un tempo la patria di miliardi di persone. Adesso eravamo solo noi cinque, lì sotto, soli con A.M. Sentii Ellen dire freneticamente No, Benny! No, su, vieni, Benny! No, per favore! E allora mi resi conto che già da diversi minuti sentivo Benny mormorare sottovoce. Diceva Voglio uscire, voglio uscire! Continuamente. Il suo viso scimmiesco era raggrinzito in un'espressione di beatitudine e di tristezza nello stesso tempo. Le cicatrici di radiazioni che A.M. gli aveva causato durante il festival erano ripiegate verso il basso in una massa di grinze biancorose e i suoi lineamenti sembravano muoversi indipendentemente l'uno dall'altro. Forse Benny era il più fortunato tra noi cinque. Era diventato pazzo molti anni prima. Ma anche se potevamo insultare A.M. quanto volevamo. Potevamo pensare le cose più atroci, a banchi di memoria fusi e piastre di base corrose, circuiti bruciati e comandi infranti. La macchina non tollerava che tentassimo di scappare. Benny mi schizzò via mentre cercavo di abbrancarlo. Si inerpicò su per la faccia di un banco di memoria più piccolo, inclinato di sghembo e pieno di elementi marci. Si acquattò lassù per un momento. Sembrava proprio lo scimpanzé cui A.M. aveva voluto farlo somigliare. Poi spiccò un gran salto, afferrò una trave pensolante di metallo bucherellato e corroso e si issò, arrampicandosi come un animale, fino a quando arrivò sul cornicione, sei metri sopra di noi. Oh, Ted! Nimdok! Per favore aiutatelo! Fatelo scendere! Prima che... Ellen si interruppe. Gli occhi cominciarono a riempirsi di lacrime. Agitò le mani in gesti impotenti. Era troppo tardi. Nessuno di noi voleva essergli vicino quando fosse accaduto quel che sarebbe accaduto, qualunque cosa fosse. E poi tutti capivamo la vera ragione della preoccupazione di Ellen. Quando A.M. aveva modificato Benny durante il periodo della sua follia, non gli aveva dato solo la faccia di uno scimmione gigantesco. Lui era grosso anche nelle parti intime e a lei piaceva. Accontentava anche noi, naturalmente, ma le piaceva farlo con lui. Oh, Ellen! Ellen sul piedistallo! Ellen la pura! Ah, Ellen la candida! Che schifo! Gorister la schiaffeggiò. Lei si accasciò lo sguardo levato verso il povero, pazzo Benny e pianse. Piangere era la sua arma di difesa. Noi ci eravamo abituati 75 anni prima. Gorister le sferrò un calcio nel fianco. Poi cominciò il suono. Era luce quel suono. Per metà suono e per metà luce. Qualcosa che cominciò a risplendere dagli occhi di Benny e da pulsare con forza crescente. Sonorità fioche, che divennero sempre più gigantesche e vivide via via che la luce suono accresceva il ritmo. Doveva essere doloroso e la sofferenza doveva essere aumentata con la violenza della luce, con il volume crescente del suono, perché Benny cominciò a gnaulare come un animale ferito. Da prima sommessamente, finché la luce era fioca e il suono era smorzato, poi più forte, mentre le spalle si incurvavano, il dorso si aggobbiva come se cercasse di sottrarsi. Le mani si ripiegarono sul petto come quelle di una marmotta. La testa si inclinò da un lato, la faccia triste, da scimmiotto, si contrasse per l'angoscia. Poi cominciò ad urlare, mentre il suono che gli usciva dagli occhi diventava più forte, più forte e più forte. Mi tappai le orecchie con le mani, ma non riuscì ad escluderlo, penetrava troppo facilmente. La sofferenza passava fremendo nella mia carne come una carta stagnola su un dente. E all'improvviso Benny si mise eretto. Sulla trave balzò in piedi come una marionetta. La luce adesso gli usciva pulsando dagli occhi in due grandi raggi rotondi. Il suono salì e salì una scala incomprensibile e poi Benny cadde in avanti, giù, giù, e piombò con uno schianto sul pavimento di lastre d'acciaio. Restò lì, sussultando spasmodicamente, mentre la luce fluiva tutto intorno a lui, e il suono saliva a spirale, sfuggendo alla gamma normale. Poi la luce gli rientrò nella testa. Il suono ridiscese a spirale e lui restò lì disteso a lamentarsi pietosamente. I suoi occhi erano due pozze molli ed umide di gelatina simile a Pus. A.M. l'aveva accecato. Gorister e Nimdo che io ci voltammo dall'altra parte, ma non prima di aver scorto l'espressione di sollievo sul volto ardente e preoccupato di Ellen. Una luce verde mare era soffusa nella caverna dove ci accampammo. A.M. fornì legna secca e noi la bruciammo. Ci sedemmo raggomitolati intorno a quel fuoco evanescente e patetico, raccontando storie per impedire che Benni piangesse nella sua notte perpetua. Che cosa significa A.M.? Gli rispose Gorister. Avevamo ripetuto quella sequenza già mille volte, ma per Benni era sempre una novità. All'inizio significava Allied Master Computer e poi Adaptive Manipulator e più tardi divenne senziente e si collegò. E allora lo chiamarono Aggressive Menace, ma ora era troppo tardi e alla fine si diede il nome di A.M. Intelligenza Emergente e intendeva dire Io sono. I am. Cogito ergo sum. Penso dunque sono. Benni sbavò un poco e ridacchiò. C'era la M cinese e la M russo e la M americano e... si interruppe. Benni batteva sulle lastre del pavimento con il grosso pugno duro. Non era contento. Gorrister non aveva cominciato dall'inizio. Gorrister ricominciò. Ci fu la Guerra Fredda e poi diventò la Terza Guerra Mondiale e continuò. Divenne una grande guerra, una guerra complessa, tanto che per mandarla avanti avevano bisogno dei computer. Scavarono i primi pozzi e cominciarono a costruire A.M. C'erano la M cinese e la M russo e la M americano e tutto andò bene fino a quando che rivellarono l'intero pianeta aggiungendo questo e quell'elemento. Ma un giorno A.M. si svegliò e capì chi era e si collegò e cominciò a trasmettere tutti i dati per uccidere fino a quando furono morti tutti. Tutti tranne noi cinque e A.M. ci portò quaggiù. Benny sorrideva tristemente e sbavava di nuovo. Ellen gli asciugò la saliva all'angolo della bocca con l'orlo della gonna. Gorrister cercava sempre di raccontare la storia in modo ogni volta più succinto ma oltre ai fatti nudi e crudi non c'era niente da dire. Nessuno di noi sapeva perché A.M. aveva salvato cinque persone e perché proprio noi cinque e perché passava tutto il suo tempo a torturarci o perché ci aveva resi virtualmente immortali. Nell'oscurità uno dei banchi di computer cominciò a ronzare. Il tono venne ripreso mezzo miglio più in basso nella caverna da un altro banco. Poi uno ad uno gli elementi cominciarono a sintonizzarsi e vi fu un lieve tintinnio mentre il pensiero correva attraverso la macchina. «Cos'è?» gridò Ellen. C'era terrore nella sua voce. Non si era abituata neppure adesso. «Sarà brutta questa volta» disse Nimdok. «Sta per parlare» azzardò Gorrister. «Andiamocene in fretta» disse io all'improvviso alzandomi. «No, Ted, siediti e se quello ha aperto dei burroni là fuori o qualcos'altro non possiamo vedere è troppo buio» disse Gorrister in tono rassegnato. Poi Udimmo non so qualcosa che si muoveva verso di noi nelle tenebre. Enorme pesante peloso umido veniva verso di noi. Non potevamo neppure vederlo ma c'era l'impressione poderosa di una mole che avanzava. Un peso enorme veniva verso di noi dalla tenebra ed era più che altro un senso di pressione di aria forzata in uno spazio limitato che espandeva le pareti invisibili di una sfera. Benny si mise a piagnucolare. Il labbro inferiore di Nimdok tremava e lui se lo morse con forza cercando di arrestare il tremito. Ellen scivolò sul pavimento metallico verso Gorrister e si raggomitolò addosso. Nella caverna c'era odore di pelo aggrovigliato e umido. C'era l'odore del legno carbonizzato. C'era l'odore del velluto polveroso. C'era l'odore delle orchidee putrefatte. C'era l'odore del latte acido. C'era l'odore dello zolfo, del burro rancido, dell'olio, del grasso, della polvere di gesso, degli scalpi umani. A.M. si stava sintonizzando. Ci solleticava. C'era l'odore del... Sentii la mia voce urlare e i cardini delle mie mascelle erano doloranti. Mi trascinai rapidamente sul pavimento, sul freddo metallo con le file interminabili di rivetti sulle mani e sulle ginocchia e l'odore mi soffocava, mi riempiva la testa di una sofferenza tonante che mi faceva fuggire inorridito. Fuggivo come uno scarafaggio sul pavimento, nella tenebra e quel qualcosa mi seguiva inesorabile. gli altri gli altri erano ancora la indietro raccolti intorno alla luce del fuoco e ridevano. Il coro isterico delle risate dementi si levava nell'oscurità come un denso multicolore fumo di legna. Fuggì svelto e minascosi. Non mi dissero mai quante ore durò, quanti giorni o forse anni. Ellen mi rimproverò perché ero imbronciato e Nindok cercò di convincermi che era stato solo un riflesso nervoso da parte loro la risata. Ma io sapevo che non era il sollievo provato da un soldato quando la pallottola colpisce l'uomo che gli sta accanto. Sapevo che non era un riflesso. Mi odiavano. Erano contro di me ed A.M. poteva sentire quell'odio e rendere tutto anche più orribile per me a causa della profondità del loro odio. Eravamo stati tenuti in vita, ringiovaniti, modificati in modo da rimanere costantemente all'età che avevamo quando A.M. ci aveva portati là sotto. E loro mi odiavano perché ero il più giovane. Quello che A.M. aveva modificato meno lo sapevano. Dio se lo sapevo. Quei bastardi e quella sporca sgualdrina di Ellen. Benny era stato un teorico geniale, un professore universitario. Adesso era poco più di un essere semi-umano, semi-scimmiesco. Era stato bello. la macchina l'aveva rovinato. Era stato lucido. La macchina l'aveva fatto impazzire. Era stato frocio e la macchina gli aveva dato un organo adatto a un cavallo. A.M. aveva fatto un bel lavoro con Benny. Gorrister era stato uno di quei tipi che si preoccupavano. Era un obiettore di coscienza, un marciatore della pace. Era un uomo che faceva progetti, agiva, guardava avanti. A.M. l'aveva trasformato in un tipo non curante. Lo aveva ucciso un poco. A.M. l'aveva derubato. Nimdok se ne andava a isolarsi nel buio per lunghi periodi. Io non sapevo cosa faceva là fuori. A.M. non ce lo diceva mai. Ma qualunque cosa fosse, Nimdok ritornava sempre pallido, esangue, scosso e tremante. A.M. l'aveva colpito duramente, in un modo speciale, anche se non sapevamo esattamente come. Ed Ellen, a lei, A.M. l'aveva lasciata stare, l'aveva resa più sgualdrina di quanto non fosse mai stata. Tutto il suo parlare di dolcezza e di luce, tutti i suoi ricordi del vero amore, tutte le menzogne. Lei voleva farci credere che era vergine solo due volte prima che A.M. l'afferrasse e la portasse lì giù con noi. Era tutta sozzura quella dama Ellen. A lei piaceva, quattro uomini tutti per lei. No, A.M. le aveva dato piacere, anche se lei diceva che non era di suo gusto. Io ero l'unico, ancora sano e integro, di corpo e di mente. A.M. non aveva manomesso la mia mente. Dovevo solo soffrire quando si scatenava contro di noi. Tutte le illusioni, tutti gli incubi, i tormenti. Ma quei quattro, quella feccia, quei quattro erano schierati contro di me. Se non avessi dovuto tenerli continuamente a bada, se non avessi dovuto stare continuamente in guardia contro di loro, mi sarebbe stato più facile lottare contro A.M. A questo punto passò e io cominciai a piangere. Ah, Gesù, mio buon Gesù, semmai c'è stato un Gesù e semmai c'è stato un Dio, ti prego, ti prego, ti prego, facci uscire di qui o facci morire. Perché in quel momento, credo, compresi completamente, tanto che fu in grado di esprimerlo a parole, A.M. era deciso a tenerci per sempre nel suo ventre, a torturarci in eterno. La macchina ci odiava come nessuna creatura senziente aveva mai odiato e noi eravamo impotenti. Ed era anche un rendamento chiaro. semmai c'era un buon Gesù e se c'era un Dio, il Dio era A.M. L'uragano ci investì con la forza di un ghiacciaio che precipita tonando nel mare. Era una presenza palpitante, venti che ci aggredivano scagliandoci indietro, giù per i corridoi tortuosi fiancheggiati dai computer. Ellen urlò mentre veniva sollevata e scagliata a capofitto in un branco rumoroso di macchine dalle voci stridule come pipistrelli in volo. Non pote nemmeno cadere. Il vento ululante la teneva sollevata, la sbatacchiava, la faceva rimbalzare, la scagliava indietro e indietro e giù lontano da noi. Poi la fece scomparire improvvisamente oltre una svolta della galleria. Lei aveva la faccia insanguinata e gli occhi chiusi. Nessuno di noi poteva raggiungerla. Ci aggrappavamo tenacemente a tutti gli appigli che avevamo trovato. Benny incuneato tra due grandi banchi, Nimdok con le dita agganciate a una ringhiera che cingeva una passerella dodici metri più sopra, Gorrister schiacciato a testa in giù contro una nicchia formata da due grandi macchine con quadranti coperti di vetro che oscillavano avanti e indietro tra linee rosse e gialle di cui non si poteva neppure intuire il significato. Mentre scivolavano sulle lastre, i miei polpastrelli erano stati strappati via, tremavo, rabbrividivo, ondeggiavo mentre il vento mi assaliva, mi sferzava, usciva urlando dal nulla per avventarsi su di me e mi staccava da una sottile apertura tra le lastre, trascinandomi a quella successiva. La mia mente era un miscuglio di molle, rotolante e tintinnante di parti del cervello che si espandevano e si contraevano in una fremente frenesia. Il vento era l'urlo di un grande uccello impazzito che sbatteva le ali immense e poi tutti venimmo sollevati e scagliati lontano giù per la strada che avevamo percorso oltre una curva in una galleria che non avevamo mai esplorato su un terreno in rovina pieno di frammenti di vetro e di cavi marci e di metallo arrugginito e via lontano più lontano di quanto fosse mai giunto uno di noi. Trascinato per miglia e miglia dietro Ellen potevo vederla di tanto in tanto mentre sbatteva contro pareti metalliche e volava avanti mentre tutti noi gridavamo nella ghiacciante e tonante uragano che non sarebbe finito mai e poi all'improvviso il vento si arrestò e noi cademmo. Eravamo rimasti in volo per un tempo interminabile cademmo e io piombai attraverso il rosso e il grigio e il nero e sentii la mia voce gemere non ero morto. E me entrò nella mia mente camminava tranquillo qua e là e guardava con interesse tutte le cicatrici che aveva creato in centonove anni guardava le sinapsi deviate e ricomposte e tutte le lesioni dei tessuti incluse nel suo dono dell'immortalità sorrise dolcemente al pozzo che scendeva nel centro del mio cervello e ai fiocchi frusci idali di falene i mormori delle cose laggiù che deliravano senza senso senza sosta A.M. disse molto cortesemente in una colonna di acciaio inossidabile che portava scritte al neon odio odio un miliardesimo che io provo per gli umani A.M. mi toccò di un miliardesimo 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 e di un miliardesimo che non sarebbe mai servito a diminuire il suo odio che sarebbe servito solo a conservarlo vigile divertito efficiente nell'odio per l'uomo immortali prigionieri soggetti a tutti i tormenti che poteva ideare sfruttando tutti gli infiniti miracoli a sua disposizione non ci avrebbe mai lasciati andare eravamo i suoi schiavi eravamo tutto ciò che aveva per occupare l'eternità saremmo stati sempre con lui con la sua mole che riempiva le caverne con il mondo tutto mente e niente anima che lui era diventato lui era la terra e noi eravamo il frutto di quella terra e sebbene lui ci avesse divorati non ci avrebbe mai digeriti non potevamo morire avevamo provato avevamo tentato di suicidarci uno o due di noi avevano tentato ma M ce l'aveva impedito immagino che noi avessimo desiderato che lo impedisse non domandate perché io non lo domandavo più di un milione di volte al giorno una volta forse saremmo riusciti a fargli passare una morte sotto il naso immortali sì ma non indistruttibili lo compresi quando M si ritirò dalla mia mente e mi concesse la squisita bruttura del ritorno alla coscienza con la sensazione di quella bruciante colonna al neon ancora incastrata nella molle e grigia materia cerebrale si ritirò mormorando vai all'inferno e aggiunse vivacemente ma ci sei già non è vero l'uragano per l'esattezza era stato causato da un grande uccello impazzito che sbatteva le ali immense avevamo viaggiato per quasi un mese e da M aveva aperto passaggi solo per portarci lassù direttamente sotto il polo nord dove aveva creato l'essere di incubo per il nostro tormento che cosa aveva impiegato per creare un simile mostro dove aveva preso il concetto dalle nostre menti dalla sua conoscenza di tutto ciò che era esistito sul pianeta che adesso lui infestava e dominava era scaturita dalla mitologia norrena quell'aquila quell'uccello divoratore di carogne quel rock quel wegelmir la creatura del vento huracan incarnato gigantesco le parole immenso mostruoso grottesco massiccio e infiato immane indescrivibile là su un monticello l'uccello dei venti si gonfiava del suo respiro irregolare e il suo collo serpentino si inarcava nel buio sotto il polo nord sorreggendo una testa grande come un castello dell'epoca Tudor un becco che si apriva lentamente come le fauci del coccodrillo più mostruoso mai concepito sensualmente creste di carne irte di ciuffi di piume si incurvavano su due occhi malvagi freddi come un crepaccio glaciale blu ghiaccio e si muovevano come fossero liquidi si sollevò ancora una volta e alzò le grandi ali color sudore in un movimento che era una scrollata poi si assestò e si addormentò artigli zanne unghie lame dormiva a mc parve come un roveto ardente e disse che potevamo uccidere l'uccello dell'uragano se volevamo mangiare non mangiavamo da molto tempo ma gorrister si limitò a stringersi nelle spalle benny cominciò a tremare e a sbavare ellen lo tenne stretto a sé ted ho fame disse le sorrisi cercavo di apparire rassicurante ma era una sicurezza fasulla come la sfida di nimdok dacci le armi gridò il roveto ardente sparì e sulle lastre fredde c'erano due rozzi archi con le frecce e una pistola ad acqua raccolsi un arco inutile nimdok deglutì pesantemente ci voltammo e ci avviamo per la lunga via del ritorno l'uccello dell'uragano ci aveva sospinti per un tempo che non potevamo concepire per quasi tutto quel tempo eravamo rimasti privi di sensi e non avevamo mangiato un mese di marcia per raggiungere l'uccello senza mangiare adesso quanto altro tempo ancora per trovare la strada che portava alle caverne dei ghiacci ai cibi in scatola promessi nessuno di noi voleva pensarci non volevamo morire avremmo ricevuto per cibo schifezze e sozzure o niente del tutto a.m. avrebbe tenuto in vita i nostri corpi in un modo o nell'altro tra le sofferenze l'uccello dormiva lassù per quanto non aveva importanza quando a.m. si fosse stancato di lasciarlo lì sarebbe svanito ma tutta quella carne tutta quella carne tenera mentre camminavamo la risata demente di una donna grassa e che giò altissima intorno a noi e nelle camere del computer che continuavano all'infinito a non portare da nessuna parte non era la risata di Ellen lei non era grassa e non l'avevo udita ridere in quei 109 anni anzi non avevo udito camminavamo avevo fame ci muovevamo lentamente spesso qualcuno sveniva e bisognava aspettare un giorno decidemmo di causare un terremoto radicandoci sul posto con chiodi piantati attraverso le suole delle scarpe Ellen e Nimdok ci rimasero quando una crepa si aprì fulminiamente nelle lastre del pavimento sparirono quando il terremoto ebbe termine continuammo per la nostra strada io Benny e Gorrister Ellen e Nimdok ci furono resi più tardi quella notte che divenne giorno all'improvviso quando una legione di angeli li portò a noi al canto di un coro celestiale scendi Mosè gli arcangeli ci volteggiarono intorno parecchie volte e poi lasciarono cadere i corpi orrendamente straziati continuamo a camminare e dopo un po' Ellen e Nimdok si accodarono a noi non erano ridotti peggio del solito ma adesso Ellen zoppicava a M quello glielo aveva lasciato era un lungo viaggio per arrivare alle caverne del ghiaccio per trovare i cibi in scatola Ellen continuava a parlare di ciliegie bing e di cocktail di frutta hawaiana io cercavo di non pensarci la fame era qualcosa che aveva preso vita come aveva preso vita a M era viva nel mio ventre come noi eravamo vivi nel ventre di A.M ed A.M era vivo nel ventre della terra ed A.M voleva che noi capissimo quella somiglianza perciò accrebbe la fame era impossibile descrivere le sofferenze che ci dava il non aver mangiato per mesi eppure restavamo vivi stomaci che erano solo calderoni di acido e gorgogliavano e schiumavano e lanciavano fitte di dolore lancinante nei nostri petti era il dolore dell'ulcera terminale del cancro terminale della paresi terminale era una sofferenza interminabile e attraversammo la caverna dei ratti e attraversammo il sentiero del vapore bollente e attraversammo il paese dei ciechi e attraversammo l'abisso dell'avvilimento e attraversammo la valle di lacrime e giungemmo finalmente alle caverne del ghiaccio migliaia di miglia senza orizzonte dove il ghiaccio si era formato in lampi azzurri e argento dove le nove vivevano nel vetro le stalattiti pendule grandi e splendenti come diamanti che fossero stati disciolti come gelatina e poi solidificati in eleganti eternità di liscia aguzza perfezione vedemmo il mucchio di cibi in scatola e cercammo di correre a prenderli cademmo nella neve e ci alzammo e continuammo a correre e Benny ci spinse via e andò a prenderli e li toccò e li morse e li addentò ma non riuscì ad aprire le scatole a M non ci aveva dato un utensile per aprirle Benny afferrò un barattolo di noci di guava da tre quarti e cominciò a sbatterlo contro il banco di ghiaccio il ghiaccio si scheggiò e volò via ma la scatola era appena ammaccata quando udimmo la risata di una donna grassa lassù in alto che scendeva echeggiando giù e giù e giù nella tundra Benny impazzì completamente per la rabbia cominciò a scagliare i barattoli mentre tutti noi ci dibattevamo sulla neve e sul ghiaccio cercando di trovare un modo per porre fine alla tortura della frustrazione non c'era nessun modo poi Benny cominciò a sbavare e si avventò su Gorrister in quell'istante divenni terribilmente calmo circondato dalle pasture circondato dalla fame circondato da tutto tranne che dalla morte sapevo che la morte era la nostra unica via d'uscita AM ci aveva tenuti in vita ma c'era un modo per sconfiggerlo non una sconfitta totale ma almeno la pace mi sarei accontentato dovevo farlo in fretta e Benny stava divorando la faccia di Gorrister Gorrister giaceva sul fianco e spruzzava la neve tutti intorno e Benny gli stava attorcigliato addosso schiacciando con le poderose gambe da scimmione i fianchi di Gorrister le mani strette intorno alla testa di Gorrister come uno schiaccianoci e la bocca strappava la pelle tenera della guancia di Gorrister Gorrister urlò con una tale violenza che molte stalattiti caddero piombarono giù erette infilandosi nei mucchi di neve che le accolsero lance a centinaia dovunque che sporgevano nella neve la testa di Benny scattò all'indietro bruscamente quando qualcosa cedette all'improvviso e dai denti gli pendeva un brandello bianco di carne insanguinata il volto di Ellen nero contro lo sfondo della neve bianca un domino sulla polvere di gesso Nimdok con la faccia inespressiva e tutto occhi Gorrister semi svenuto Benny ormai trasformato in un animale sapevo che a M lo avrebbe lasciato giocare Gorrister non sarebbe morto ma Benny si sarebbe riempito lo stomaco mi voltai verso destra e strappai dalla neve un enorme lancia di ghiaccio tutto in un istante protesi il grande puntale di ghiaccio davanti a me come un ariete tenendolo puntellato contro la coscia destra colpì Benny al fianco destro sotto la cassa toracica e affondò dal basso in alto attraverso lo stomaco gli si spezzò dentro Benny crollò in avanti e restò immobile Gorrister era disteso sul dorso afferrai un'altra lancia e gli saltai addosso a cavalcioni mentre si muoveva ancora piantandogli la lancia nella gola i suoi occhi si chiusero mentre il freddo penetrava Ellen doveva aver capito cosa avevo deciso di fare mentre la paura l'afferrava corse verso Nimdok impugnando un cortoghiacciolo e mentre lui urlava glielo piantò nella bocca e la forza del colpo ottenne lo scopo voluto la testa di Nimdok sussultò bruscamente come se fosse stata inchiodata alla crosta di neve che stava dietro di lui tutto in un istante vi fu un battito eterno di silenziosa anticipazione potei udire a M che tratteneva il respiro i suoi giocattoli gli erano stati sottratti tre erano morti non era possibile risuscitarli poteva tenere in vita noi con la sua forza e il suo genio ma non era Dio non poteva farli risorgere Ellen mi guardò il volto d'ebano che spiccava nitidamente contro la neve che ci circondava c'era paura e supplica nel suo atteggiamento nel modo in cui si teneva pronta sapeva che avevamo a disposizione solo un battito di cuore prima che a M ci fermasse la colpì e lei si accasciò verso di me sanguinando dalla bocca non riuscì a leggere il significato nella sua espressione il dolore era stato troppo forte le aveva sfigurato il volto ma poteva essere stato un grazie è possibile fai che sia così forse sono trascorse alcune centinaia di anni non lo so a M si è divertito per un po' di tempo ad accelerare e a ritardare la mia percezione del tempo dirò la parola ora ora ho impiegato dieci mesi per dire ora non so io credo che siano state alcune centinaia d'anni ero furioso non volle che li seppellissi non aveva importanza era impossibile scavare nelle lastre metalliche fece indurire la neve fece calare la notte ruggì e mandò le locuste non servì a nulla i morti rimasero morti l'avevo fregato era furioso avevo pensato che a M mi odiasse prima mi sbagliavo non era neppure l'ombra dell'odio che trasudava da ogni circuito stampato si assicurò che io soffressi eternamente e non potessi uccidermi lasciò intatta la mia mente posso sognare posso interrogarmi posso lamentarmi le ricordo tutti e quattro vorrei ecco non ha senso so che li ho salvati so che li ho salvati da ciò che è accaduto a me ma non posso dimenticare di averli uccisi il volto di Ellen non è facile qualche volta vorrei dimenticarlo ma non ha importanza a M mi ha modificato per poter stare tranquillo suppongo non vuole che mi precipiti a tutta velocità contro un banco di computer e mi sfracelli il cranio o che trattenga il respiro fino a svenire o mi tagli la gola con una lamina di metallo arrugginito vi sono superfici riflettenti qua giù mi descriverò come mi vedo sono una cosa grande e molle gelatinosa liscia arrotondata senza bocca con i bianchi meati pulsanti pieni di nebbia al posto degli occhi appendici elastiche che un tempo erano le mie brate masse tondeggianti che scendono formando grumi di materia molle e viscida lascio una traccia umida quando mi muovo giazze di un grigio malsano maligno vanno e vengono sulla mia superficie come se si irradiasse una luce dall'interno esteriormente muto mi trascino intorno ridotto a una cosa che non potrebbe mai venire riconosciuta come un umano una cosa la cui forma è una parodia così aliena che l'umanità diventa più oscena per quella vaga rassomiglianza interiormente solo qui vivo sotto la terra sotto il mare nel ventre di am che noi creamo perché avevamo speso male il nostro tempo e sapevamo inconsciamente che lui avrebbe potuto far meglio almeno loro quattro sono salvi finalmente am sarà ancora più furibondo per questo e questo mi consola un poco eppure am ha vinto semplicemente si è vendicato non ho bocca e devo urlare non ho bocca non ho bocca non ho bocca non ho bocca Grazie a tutti